Ciao a tutti, siamo qui con il nostro primo gameplay, primo in facecam, primo in facecam e primo su FIFA 14 Esatto, ce la facciamo per voi, mi accompagniteli sono Buggy, io sono Kidz, oggi appunto vi portiamo il primo gameplay di FIFA 14 con il MLS All Star come il min che si chiama E io ho il classico, no io ho, tu c'è, no io ho scusate, il MLS Adidas, una roba del genere E io ho il classic, con Balesi, Franco Balesi, Corrivera, Pile, sto facendo Pile Corriera, Pile, io ho la squadra Adidas, adesso le vedete, Casillas, Danimale, Lam, Metsaka, David Silva, Smash Tiger, Xavi, Robert, Messi, Bale, Benzema Con, aves, se salto, non mi fa il depuracare niente Comunque ragazzi, e adesso per l'inizio a partita vedrete i sovrae persone di fianco a noi No, di qua Lautettafer, Carlos Alberto, Beckenbauer, Franco Balesi, Facchetti, Zico, Pelé, George Rivera, Gianni Rivera, Scogge, e il mondo Cioè beh, Pelé Rivera, Papin, Voller e Sanchez Dicevo adesso, di fianco alla nostra immagine, al nostro video, vedrete comparire la steelbook del gioco Perché io ho preso la limited edition, con la steelbook della Juve, tutti giuventini come me Gotteranno, oh, Franco Balesi, Bullissimo Gotteranno come Matti, io ho preso fatte l'ultima Vedrete prima la steelbook della Juve, aspettate, la steelbook della Juve e poi vedrete anche la copertina Così per chi la volesse vedere, appunto, ve la mostro in notte prima Dopo magari vi faccio vedere anche le cose che contiene il gioco Intanto, adesso iniziamo la partita nel vero stesso tempo Vado a andare al volo, Voller Casillas, non la prende? Può rischiare? Nooo, Zico, presa benissimo Bastardo Zico segna, attenzione, attenzione, Zico Capellore, un lucido, spigliato dal nulla Abba Hai segnato un pezzo di merdo Guarda, fammi ricordarmi un attimino il nome Adidas All Stars, ecco Dove è caso l'ho tenuto fuori ML? Eh, quell'altro Eh, sì, io so Quello mancato che non sono neanche... C'è, ti voglio Adesso cominciamo il commentario serio Messi Marcato da tre giocatori David Sivio, scudo, vuoi avanzare? Sanchez, Sanchez Hugo Sanchez su Silva Dai Hugo Sanchez Precisiamo che la sua squadra c'ha tutti i 90 Ma se mi forno, da una bolle Guarda lì, sono imprendibili Sono imprendibili Robbe, Robbe prende palla Passa Bale Bale scatta Beckham Bauer Scatta Bale Beckham Bauer Passaggio filtrante per Pesemar Pesemar Non ci arriva perché è troppo lento No, lo s'alberto spazza No, Rivera No, lo s'alberto spazza, vabbè Messi Sì, la crossa La mulce C'è dentro Bale Bale di testa L'ha tirata addosso a Zico A Zico La letta a fare La prende, crossa per Boller Non c'è nessuno in attacco Dov'è? Dov'è il mondo? Tu te resta il mondo dove sta? Basta di Bale Siamo solo un bicifrocio Robben Basta di Bale Robben Ketty La fascia Robben Scatta Scatta sulla fascia Robben Ketty fa che c'è Cross Sì Hai la fascia di sto cazzo Robben Basta Boller Svastagra arriva La intercetta A Bale Basta Svastagra 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 Backman Backman Bower C'è l'ho s'alberto Eh, pensi Mario Hai scivolato Mario Cuperò subito Palla C'è l'ho s'alberto Ma Mi fa tu Un bel col passaggio Svastagra 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 Fottagra Dice Daniel Boller Boller Allora la crosta per Papin Per chi? Che crosta è a mezz'aria? Papin la crosta a centro, non trova nessuno Tessaker, passa Bale, intercetta Bale Lancio lungo per Messi, 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 tutto campo Beckenbauer è tutto Messi, Beckenbauer Beckenbauer è vera Dei mostri sono i tuoi, oh I suoi corrompiti di un so cosa Peggio i negric Non c'ho negric infatti da parte più deboli, benissimo Ma mi pare Carlo Robles era un magrebino Subito per Messi, Messi La passa a Robben Che la passa a Benzema Beckenbauer Zico, Zico Fatemi mettere la difensiva perchè ho bisogno di difesa Waller Waller, Zico, le passa Tanto faccio pressing Savi è intercetta, ma attenzione Smash Stagger di forza, proprio di Di prepotenza Benzema Beckenbauer 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 La cross per La cross per S Ma ammetti parlare quando parlo io Una volta Quando c'è parlo io Quando c'è parlo io Di te Cazzo No, Papi 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 L'intercetta Davi Silva La lancia per Messi 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 La cross per Benzema Ma Benzema è una merda Minchia, sta partita qua è veramente penoso Benzema Non ne prende una Davi Silva recupera Davi Silva per Xavi Per Messi Per Benzema E che viene intercettato Io lo cambio Fino a primo tempo lo cambio Sta meglio Yugo Sarcic Poi Daniel Alves Anche te stai parlo mentre parlo io adesso Ah ho scontato tu Daniel Alves Olivera Comunque precisiamo una cosa che La sua appunto è la squadra classica Cioè la classic Cos'è? Degli anni 90 no? Sì vabbè Comunque è la squadra classica Io sto usando la squadra dell'Adidas Cioè tutti Dovebbero essere tutti quelli che Sono sponsorizzati dall'Adidas Infatti non c'è tipo Buffon E quelli della Yu Sì quelli della Yu No perché sono online i più fatti Basta Ragazzi ci vediamo tra poco Ok ragazzi Eccoci Ho cambiato quella merda di Benzema Ho fatto il modulo 352 Passandolo da 343 a 352 E questo è il secondo tempo di Adidas Adidas contro classic Nonna Yugo Sanchez Yugo Sanchez si trolla il mondo Ah I fili d'erba Si scartano Vole così Carlo Sanberto Carlo Sanberto Carlo Sanberto Carlo Sanberto Si scartano Io pensavo fosse Roberto Carlos Invece no Carlo Sanberto Carlo Sanberto Oh Mosca di merda Sul dito La donna la crossa E vabbè Minchia di suoi Ci hanno un peper duro A me sta grazie C'è una scusa però Zico Zico la crossa Zico la crossa Per Baresi Baresi le prende Baresi Baresi Non si sa cosa è successo Si porta per terra da solo Per il Sanchez Anche se mette sale Per Messi Per Messi Per Messi che scatta Per Messi Guarda guarda come mi recupero È una cosa scandalosa Bale Bale E vabbè Che tiro è Peckinbauer Non passa Cazzo se mettevo il mio gatto incinto Sapria tirarla a me Io Incinta da fire A padella Ma Che nero e sciata Ma il mio non ha saltato La precisiamo eh Precisiamo che i miei stanno giocando di merda Perché non Non so perché Pardon Non se non giocano Non Non recupero un palla Non Non te la recupero Non te la recupero Zico Dai Un due tiri Due due gole hai fatto Questa la rifacciamo Ma che baule ti ha messo Ma va a te A prendere in culo Ehm Mi stai dicendo Sei tu Non ci posso credere che sei il credito Sei il credito Sei il credito Sei il credito Me la stai mandando È divissimo bei Messi Lui Messi Dai guarda ma com'è In me stanno sbagliando tutto Non sanno giocare Cattivo Lamm Passa per Messi Ma non so se Ma guarda Guarda è scandaloso È la cosa più scandalata che abbiamo visto Ma Non è possibile dai È la squadra più inculata del mondo Ti sa vedere Guarda Xavi Xavi è lui Passa per Messi Dai che cazzo di fuori gioco è Guarda che non è millimetrico Anzi A parte che riprofugge Vabbè Fu gioco da nulla Baresi Cossa Bolle Ma oh I miei vedi che non saltano I miei cosa stanno facendo Nulla Non saltano Non recuperano palla Anzi trappa Neanche il tempo di tirla Vabbè 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 La passa Robben Che la ripassa A Messi Che non si sa come mai Non prende il pallone Billy, io ci provo da solo con Billy guarda, ti faccio le scivolate guarda, lo tiri da palla ogni volta niente è impossibile giocare con questa squadra qua se la mettessero su FIFA Ultimate Team vinceresti anche contro anche contro Real Madrid no, contro il Papa contro la squadra contro le nazionali contro la squadra di Cristo con tutti gli apostoli Cristo, Buddha in porta Buddha con tutti gli apostoli in difesa se vincereste non è possibile ragazzi dai, mettetelo non è che sto rosicano ma cazzo guarda lì, idioti i miei compagni idioti guarda, ti ridanno palla non è possibile ti ridanno palla infatti, è un... ha rubato tre volte palla guardate ma che culo di merda rubo palla te la ridà rubo palla te la ridà che culo di merda 3-0 scandalo non si sa perché adesso questo passaggio qua te la rubo te la ridà ho la squadra più in casa del mondo la squadra è la massa cos'è? ma dai ragazzi figa due coglioni sto cazzo di squadra oh a minchia se pioio era meglio sì guarda oh, un passaggio giusto gli sto chiedendo uno e vabbè fare il gioco dai lo so ma vatela a prendere in culo va che palle cristo lama intercetta prende david silva che prova a fare il lancio per bale sicuramente verrà intercettato e non è così invece non si sa come prende palla non si sa come e tu la spedisci in calcio sbaglio il capitano messi in cross si nanini in in come si dice in area del rigore precisiamo tiri di precisione andava all'incrocio dei pali ovviamente sbagliato cioè il più semplice di tiro sopra l'altra vez ma con gli abituali taffarello 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 guarda è impossibile giocare così è impossibile ti rubo palla ti rubo palla e te la ridano non è possibile non lo so il figlio non è possibile rubo palla e le ridano i miei e vabbè l'hame fa le scivolate al nulla la vesiva recupera la passa a bail la passa a messi che ovviamente adesso verrà recuperato in due secondi secondi beck e bauer ci prova non ci voglio credere dai sii cazzo nani porca troia nani da trope è stato il gol più cazzo minchia vedete 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 un'azione almeno fonna papin papin cazzo vabbè sconfitto umiliante ma tre gol di culo dai mettiamolo un dia si è segnato rivera beckenbauer zico e io con nani al novantesimo da tipo Milan contro Bologna alla fede no da dietro ti ho segnato da dietro la porta tipo a i calci d'angolo alle revenge dai il calcio d'angolo il calcio di testa il calcio di testa i crevino è peggio cioè guarda come partite equilibrata 5-3 4-3 ma vabbè comunque ragazzi questo gameplay è finito speriamo che sia stato di vostro gradimento soprattutto vabbè perché finalmente ha vinto una partita di Sandro cioè la cultura è più totale dopo che ho perso con lui contro lui con un braccio rotto 20 a 2 22 cos'era? 20? Manchester Juve comunque ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale no lo direi ah commentate che sempre ci fa piacere e come sempre mettete mi piace alla pagina di descrizione se volete un altro gameplay di filo 14 lo trovate qui sotto troverete una fascetta che ho scritto di cliccare qua ah non qui sotto del video io faccio un google di Michel ok dove troverete un link che abbiamo messo un video su una community chiamato programiter perciò se volete vedere una partita che faremo cliccate lì e la troverete vedete la new partita esatto noi ci vediamo al prossimo video fateci sapere se volete altri video di filo 14 noi ci vediamo al prossimo video vai per Compagnitaly ciao 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 ciao